quale volete? al vero allora guarda oh questo questo qui da quanti è quello? oh questo qui 4 euro questo che è forte oh guarda guarda è una mega bomba quale peghi? tu questi due pegli allora mi passi quell'altro si oh guardate questi due raga guardate qui dietro che queste sono due leggendarie guardate vai forza scartamento ti scarta? ogni carta la guardi e poi me la passi questa qua non fai niente guardate questa è la carta che lui vorrebbe scappare vediamo se ci sono dei codici di regalo per qualcuno no non è di regalo vai passiamo l'altra che forte vai fai vedere spettacolo piano 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 di più lento eh ex più lento guardate che robetta che abbiamo trovato che spettacolo e poi più lento oh non è come la lumaca non è bene il suo spacchettamento raga come sei sei soddisfatto? oh non è bene il suo spacchettamento adesso adesso come è andato il suo spacchettamento? oh aprite lo stesso pacchetto insieme uno per volta fai vedere questo foglio fai vedere tutto guardate che ci troviamo guarda questa c'è la bici se trovo questa è la scuola se trovo questa è la scuola scarta la carta scarta la carta manueletto faccio la vediamo oh ragazzi vedete eccola faccio vedere piano 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 rallenta guardate che spettacolo guardate che meraviglia questa che disegni wow questo qua è forte pure questo che roba piano piano guardate più piano è la cacchetta quella vediamoci sempre la cacchetta che spettacolo cacchettina ma che non va di niente wow forte fortina oh carina questa wow cacchetta guardate che spettacolo guardate che spettacolo scarta la carta già manu faccio sognare scarta la carta scarta oh oh a chi deve andare su youtube eh un oggettore oh ragazzi oggi andremo anche stasera lì in quel posto però ecco allora scuola scuola della casa di Bob Robert della casa degli elfi del bosco che non c'è è un botto figo quindi faremo un altro video seguitici quindi iscrivetevi iscrivetevi ecco questa qua ci trovi la accessura secondo me è è spettacolo ma non è qua vediamo inquadramo pure la prima wow wow che che è? madonna ragazzi ora non lo posso nemmeno vogare noo da 40 ragazzi questo lo possiamo vogare 80 è meglio sì è forte ragazzi wow che figo wow guarda la roba wow è lungicante wow si miaggia questo è il doppione questo qua guarda che carina sembra un po oh questo è il gaiardo ragazzi oh la posso vogare oh la che roba che cacchetta wow che vettacolo la posso vogare la posso vogare non ce l'abbiamo ok ok ce l'ho cambiata ragazzi miei aiuto guarda che roba si no no ma io e la la via e la la via e la la via e la la via e la via e la via e la via guarda ma dentro la via la carta la carta la carta fa la raccogliete questa cartaccia è qua si la devi continuare ma sempre la stessa cosa mica che c'è scritto tutto è un vertino wow è sempre doppione il doppione ha sempre la porta ragazzi nuovi un boxing tutti i giorni oh raga questa poi la posso vogare gli iscrivete aspetta divete rallentata raga questa cosa la posso giocare? oh Mattia non vedevi wow wow che miticata ragazzi wow guardate questa che cacchettino oh oh qui vale poco eh pure questa oh che spettacolo pure questa la posso giocare solo che hai bella è bella dai lo posso giocare quella grossa la nocce rossa che spettacolo questa cosa ci dobbiamo volerli no guarda vai vedere la prima vogliamo vedere gli ex non sono tutti uguali guarda non lo posso nemmeno volcare però c'hai baffi scartare la carta scartare la carta scartare la carta all'accendini piccolo facci sognare 100 accendini mille scartare la carta scartare la carta accendini facci sognare scartare la carta scartare la carta scartare la carta 15 ui l'ultima è pigassi vede 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 nu posso buca l'ultima è pigassi Sì Questa qua carcchettina Non ci sono doppioni Oh, c'è quell'ex C'è quell'ex C'è che va detto? Però non ci abbiamo trovato la x Se la doi la mano ce la proviamo E' supera tutte Oh, abbiamo fatto tutte? Ho trovato quella figa Tutte, raccogliete la carta Allora, ragazzi, dai, di perché Ti dovrebbero iscrivervi al canale Perché i youtuber fanno sempre I canaggi di video No, perché faremo nuovi unboxing Tutti di settimane Faremo nuovi unboxing di Pokemon E quest'altra volta con 30 euro Oh, oh, aspetta Ehi, battaglie nerf Fai vedere che abbiamo l'armamentario Iscrivetevi, battaglie con i nerf Ok Ciao, iscrivetevi, eh